ciao amici rossoneri volevo dirvi che il 19 maggio si torna in campo per il memoria claudio lippi che ci manca tantissimo giocheremo alle 20 e 30 al vismara mi raccomando vi aspetto numerosi un abbraccio forte ciao ciao da super pippo ragazzi ciao a tutti volevo ricordarvi e darvi appuntamento giovedì prossimo il 19 alle 20 e 30 al centro vismara dove si allena la grande settore giovanile del milan il memorial per il nostro grande amico claudio lippi ci vediamo lì faremo un po di partite daremo un po di spettacolo ciao a tutti solo per ricordarvi che ci vediamo giovedì 19 alle 20 e 30 per il memorial claudio lippi un abbraccio alle 19 e 30 al centro vismara c'è il memorial a claudio lippi tutti la presenti mi raccomando ciao tifosi rossoneri vi aspettiamo il 19 maggio al centro vismara alle 20 e 30 per il memorial claudio lippi forza lì vi aspettiamo in tanti giovedì 19 aprile al centro sportivo vismara per ricordare un grande amico claudio lippi e così avremo modo di aiutare anche fondazione milano ciao a tutti ciao ragazzi sono ringo sono qui per un motivo importante voglio ricordarvi il memorial caldo lippi il 19 maggio sera vi aspettiamo al centro di smara milano ci sarà una partita nel suo ricordo un sacco di ospiti di amici di claudio gli ex giudatori del milan insomma venite a trovarci ok ci sarà anche io altrimenti ciao ragazzi vorrei ricordare a tutti che giovedì 19 al centro sportivo vismara dalle 20 e 30 a milano celebreremo claudio lippi con il memorial milanissimo in suo onore un abbraccio vi aspettiamo presto perché la serata poi servirà anche agli scopi di fondazione milano ciao qui da milanello che il 19 maggio abbiamo tutti un grande appuntamento quello con claudio lippi quello con la sua memoria quello con il suo sorriso la serata per claudio lippi al centro sportivo vismara di milano giovedì sera dalle 20 e 30 e poi 19 maggio al vismara grande serata milanissimo grande serata claudio vi aspettiamo tutti per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno